Alla fiorita di Cesena, Cesena 0, Bologna 1. Attenzione Cesena, Pasini tocca a te per cortesia. Qui è Cesena, il campo della fiorita, il Cesena ha pareggiato 30 secondi fa su calcio di rigore con Urban. Bologna 1, Cesena 1. Passo all'ascolto dell'Olimpico. Mere, scusa Mere, è tornato in vantaggio il Bologna con un gol di Pesci all'undicesimo. La situazione è pertanto alla seguente, Cesena 1, Bologna 2 a terraline. Chiedo scusa per le frequenti interruzioni, ha pareggiato il Cesena al tredicesimo con Urban. 2 a 2 la situazione a terraline.